Giornata di Coppa ieri per il calcio dilettante, il Charlize Muzzane batte il Montecchio e si qualifica ai sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie D. Decisivi i gol di Benomio e Bramante. In eccellenza andata delle semifinali, vittoria per il Tamai 3-1 sul San Luigi con doppietta di Zorzetto e Tris siglato da Stiso. Poi il gol che lascia qualche speranza ai triestini è di Linussi. Il Codroepo in casa batte 1-0 l'Unione Fincantieri-Monfalcone. Decisivo il gol di Bertoli. Tamai e Codroepo quindi partono in vantaggio per aggiudicarsi la finale che si giocherà il 5-6 gennaio. Giornata dove sarebbe in programma la prima di ritorno dell'eccellenza. Ma il Comitato regionale sta valutando l'ipotesi di spostare l'intera giornata in un turno infrasettimanale a marzo. Le società sembrerebbero gradire.